L'orologio da polso evidenza rappresenta un'icona di stile e raffinatezza nell'universo dell'orologeria di alta qualità. Con un design unico e un'eleganza intramontabile, l'evidenza cattura l'essenza dell'arte orologiaia. La storia dell'evidenza è un viaggio attraverso l'arte dell'eleganza e dell'orologeria. Creato con l'intento di essere molto più di un semplice orologio, questo modello è stato lanciato con l'obiettivo di unire il design sofisticato alla precisione dell'orologeria. La sua storia è una dimostrazione di impegno verso l'arte dei dettagli e la maestria artigianale che definiscono l'orologeria di elite. Il design dell'evidenza è caratterizzato da una forma ellittica unica, che cattura immediatamente l'attenzione. La cassa spesso presenta curve morbide e finiture impeccabili, creando un aspetto che cattura l'essenza dell'arte orologiaia. Il quadrante è impreziosito da indici eleganti e lancette raffinate, riflettendo l'attenzione ai dettagli e la leggibilità dell'orologio. Questo equilibrio tra design distintivo e funzionalità rende l'evidenza un'icona di stile senza tempo. Molte celebrità di fama internazionale hanno abbracciato l'evidenza come un simbolo di stile senza tempo. L'attrice Kate Winslet è stata spesso fotografata con un orologio evidenza al polso, sottolineando il suo apprezzamento per l'eleganza unica dell'orologio. Un dato notevole riguarda l'attenzione costante alla perfezione del design dell'evidenza. Le edizioni successive spesso presentano dettagli esclusivi, come materiali pregiati o complicazioni avanzate, dimostrando l'impegno costante verso l'innovazione nell'alta orologeria. In sintesi, l'evidenza va oltre l'essere un semplice orologio da polso, rappresenta l'essenza dell'eleganza intramontabile e dell'arte orologiaia. La sua storia affascinante, il design unico e le numerose edizioni speciali lo rendono un'icona di stile e raffinatezza. Indossare un orologio evidenza è un omaggio all'arte dei dettagli e all'eleganza senza tempo. Con la sua storia ricca, il design distintivo e l'impegno verso l'eccezionalità, l'evidenza brilla come un gioiello senza tempo nell'universo dell'alta orologeria. Scegliere un orologio evidenza è abbracciare l'eredità dell'arte orologiaia e l'essenza dell'eleganza senza tempo.